Ho cercato di fare il punto in questa fase 2 su quello che è successo dall'ultima volta che abbiamo fatto la press conference relativamente ad accesso alle cure alla carenza dei farmaci anche perché purtroppo durante la pandemia abbiamo dovuto sopperire a gravi situazioni di carenza di farmaci soprattutto ad un farmaco in particolare che era il Plaquenil che è un farmaco molto utilizzato dai malati reumatici in cui la condivisione tra la società italiana di reumatologia e l'associazione nazionale malati reumatici ha portato ad AIFA a reperire e poi a stilare un documento di indicazione di come veniva fatto l'utilizzo di questo farmaco. Questo perché? Perché purtroppo veniva destinato ai pazienti covid e quindi carente per i pazienti reumatici. Questo per fare un quadro un po' della situazione che non vorremmo si dovesse rivivere in autunno e in inverno perché queste sono le diciamo le ipotesi che si appunto ipotesi per l'autunno e inverno in cui si possa ripresentare il famoso covid-19. Se attenuato o rafforzato questo non lo sappiamo però i pazienti fragili o comunque i pazienti come i pazienti reumatici devono avere delle linee un po' più come dire indirizzate e meno burocrazia soprattutto perché abbiamo avuto difficoltà sia nella lettura del dpcm per quanto riguarda il lavoro e teniamo presente che siamo oltre 5 milioni e mezzo di italiani che non siamo solo anziani che ci sono bambini con patologie reumatiche e che ci sono soprattutto delle fasce importanti dai 18 ai 60 anni di pazienti che sono lavoratori quindi eliminare le barriere burocratiche mantenere un rapporto importante con lo specialista attraverso anche la telemedicina e cercare di garantire quel rapporto a tre che è il medico di medicina generale il paziente e lo specialista perché il medico di medicina generale ha comunque un ruolo importante e vorremmo anche parlare al prossimo alla prossima press conference di come dire un'unione di intenti tra la società italiana di reumatologia il medico di medicina generale e il paziente anche per portare parlare della famosa vaccinazione anti influenzale perché spesso e volentieri come dire ci sono pareri discordanti quindi anche per dare delle risposte immediate molto facili ai pazienti reumatici che spesso sono pazienti di serie b sia per i farmaci sia per quanto come dire considerare essere considerati nella in televisione nei discorsi che si fanno e quindi siamo venuti alla luce solo perché appunto il nostro i nostri farmaci vengono utilizzati per il covid 19